Ben ritrovati, un saluto a tutti, come state? Come state? Come state? Sono entrato, di solito prima di un video mi siedo, ragiono, magari mi siedo dopo che ho già ragionato, no? In questo video andiamo su questo, se non è un video con notizie, un video di approfondimenti, possiamo affrontare questo punto di vista. Oggi, forse per la prima volta, una delle prime volte, sono sceso qui, o meglio, mi sono seduto qui, sono sul letto in camera mia e ho schiacciato subito senza pensare a che cosa dirò. Mi sento davvero qui come con voi al bar, ci becchiamo perché ci diamo l'appuntamento oppure casualmente al bancone, hai visto il mio? Lascia perdere. Oppure ci incrociamo al supermercato, oppure, che ne so, anche se oggi non è giornata lavorativa, ci becchiamo davanti alla macchinata del caffè in pausa. Questo, buttare fuori pensieri, buttare fuori pensieri in quello che potrebbe essere anche un caos o caos ordinato, questo non lo so, non voglio sfociare nella filosofia. Di fatto sono qui per esternare davvero molto disappunto e anche arrabbiatura, per non dire altro, però dico arrabbiatura, che è una forma un po' più edulcorata. Perché riflettevo, alla fine, insomma, alla fine noi siamo sempre lì, siamo sempre lì e noi più di un tot non possiamo farlo, mi sembra che il popolo rossonero il proprio lo stia facendo sempre, 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 sempre. Nel popolo rossonero non si può dire nulla, anzi, il cardinale dice, i tifosi di Milano hanno fatto loro, ora noi dobbiamo fare il nostro, vero, fin qui parole, cerchiamo di passare ai fatti. I tifosi del Milan dicono, i giocatori del Milan dicono, i tifosi del Milan ci danno la carica, sono splendidi, eccetera, eccetera. Sì, però poi, quando è il momento, che si fa? E poi c'è questa cosa, chiediamo scusa ai tifosi, come se quando hai chiesto scusa dopo la partita, a posto, ti sei pulito la coscienza e adesso vai al lago, visto che è giornata libera. No, non funziona così. Le scuse vanno bene una volta, dopodiché stanno tanto riprese in giro, no? Il tifoso del Milan riempie lo stadio quando c'è Milan Tottenham? Sì. Il tifoso del Milan, lunedì, giornata di lavoro, contro la Salernitana in casa, riempie lo stadio? Sì. Perché il tifoso del Milan vuole più bene rispetto, evidentemente, a chi vive il Milan quotidianamente in prima persona e ha la fortuna e all'onore di indossare la maglia. Ripeto, si possono perdere partite per sfortuna, perché il portiere avversario è stato il migliore, ma non così. Ragazzi, l'Udinese, questo me lo sono segnato ieri, l'Udinese non vinceva in casa dal 18 settembre, quando, tra l'altro, aveva battuto l'Inter. Il 18 settembre era l'ultima partita di Mignan, quella contro Napoli la sera quando perdiamo, prima dell'infortunio. È passata una vita. Loro non vincevano in casa da quel momento lì. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Sei mesi, anche se poi c'è stata di mezzo la pausa nazionale. Esattamente sei mesi dopo hanno vinto perché ieri era il 18. Quindi non è che stavamo affrontando il Real Madrid. Poi è bello il calcio, magari quello meno attrezzato vince, ma non così. Nelle ultime tre gare, ripeto, appena un punto su nove contro Fiorentina, Salernetana e Udinese, non esattamente Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. E non va bene. Può succedere una volta, hai sbagliato l'approccio, succede due, non va bene. Se succede frequentemente, capite che, ripeto, è una cosa che non si può accettare. Se si accetta che, beh, facciamo un punto su tre, stiamo andando così male, eccetera, significa essere complici di un atteggiamento non da professionista. Perché? Perché? Sto usando molto la metafora del tipo di serata che devi fare, no? Se vai a fare una cena di gala, ti metti perfetto, papillon, pettinato, eccetera. Ma poi, non è che vai in tuta se hai comunque una cena importante. Perché il campionato è una cosa importante. La Champions è bellissima, prestigiosa, è potenzialmente l'unica cosa che potremmo vincere. C'è molto di potenzialmente in tutto questo. Ma nel campionato, arrivare nei primi quattro, se possibile, è ancora più importante. Cioè, tra arrivare ai semifinali di Champions e non arrivare nei primi quattro posti, o fermarci ai quarti e arrivare nei primi quattro posti, è più importante arrivare nei primi quattro posti, per n motivi. È fondamentale fare la Champions il prossimo anno. Io posso capire, ma non condividerei, ma potrei anche capire, se scendi in campo così, quando sei a metà classifica, non puoi retrocedere, non puoi neanche andare in Europa, e quindi vedi un po' come va. Non ci metti il sacro fuoco. Ma non posso accettare che si scenda in campo così, quando ti stai giocando, a livello calcistico, la vita. Perché arrivare nei primi quattro posti è vitale. È vitale. È fondamentale, è necessario. Non bisogna scherzare col fuoco. Se si fa fare l'Europa League il prossimo anno, il bel palcoscenico te lo scordi, giochi di giovedì, poco tempo per recuperare per la domenica, e non hai neanche le risorse in più che ti porta la Champions, che sono tante rispetto all'Europa League, per migliorare questa squadra e provare a tornare a vincere. Si sta giocando, si sta scherzando col fuoco. Abbiamo in questo momento una classifica che non è da Milan. E vediamo poi come sarà a turno concluso in quello che doveva farci vedere il Milan al secondo posto. Invece è per fortuna che la Juventus sia stata penalizzata. Altrimenti sarebbe ancora più difficile arrivare in Champions League. Sarebbe ancora più brutta questa classifica. Ma se andiamo avanti così, la Juventus ce la troviamo addosso, eh? Ce la troviamo addosso se andiamo avanti così. Ora, recupero la classifica. Non credo di dire un'eresia. Poi vediamo ovviamente come andrà stasera. Milan 48, Juve 38. Se loro vincono stasera vanno a 41. Vanno a meno 7. Con una penalizzazione di 15 punti. Poi il fatto, Ibra dice squadra comunque è campione, però non ha esperienza. Quando tu vinci lo Scudetto, l'esperienza ce la devi avere. Devi avere amor proprio, devi avere professionalità. Non è l'esperienza che tutti vogliono fare bella figura col Milan. È il fatto che tu ti stai approcciando al campionato come se dovessi andare a fare il torneo dell'oratorio, con il massimo rispetto per il torneo dell'oratorio, o il torneo del cortile. Non va bene. Ma cavolo, ma perché? Perché rovinare una stagione che doveva essere molto più brillante? Perché rovinare anche poi un progetto, lo rovinare perché secondo me quando fai un gennaio del genere o un marzo senza vittorie, questo ti lascerà in estate profonde riflessioni e servirà poi una terapia d'urto. E se tu non la fai perché magari arrivi comunque in Champions, sottovaluti un problema che per me sta venendo a galla ormai è emerso c'è un problema evidente e fa bene Mr. Pio da dire mi prendo le responsabilità perché evidentemente non le ho preparate adeguatamente. È vero. Per me le motivazioni quando deve arrivare ai primi quattro dovrebbero sorgere spontanei anche se hai vinto lo scudetto e quindi comunque un ridimensionamento. ma se non le trovano i giocatori devi metterle tu e se tu le metti e loro non le recepiscono loro comunque finiscono sotto accusa. Tutti finiscono sotto accusa perché in campo scendono loro non posso vedere un passaggio orizzontale lì che regala la palla a loro non posso vedere il difensore farsi superare dall'attaccante in quella maniera non posso vedere un attaccante sbagliare gol o o in generale un atteggiamento mentale non da grande squadra ma neanche da squadra di media classifica Mina ieri è sceso in campo con l'atteggiamento di una squadra di serie B perché se tu giochi così con tutte le tue potenzialità significa che hai hai fatto passi indietro ma tanti passi indietro può succedere una volta ma se succede più volte non accetto non accetto che il gruppo accetti tutto questo ci deve essere una bella sveglia lo dico senza strappare fogli strapparmi la felpa anche perché quella di Milanello senza urlare o dire parolacce le cose si devono si possono dire con più tranquillità l'importante è il contenuto e per quanto mi riguarda il mio stato d'animo è quello a metà tra dispiacere e rabbia perché c'è ripeto faccio sempre stancherò ma come lo studente se c'è quello che non ha le capacità più di tanto non può fare ma se c'è quello invece che ha la capacità devi pretendere il massimo così questi giocatori che non hanno 17-18 anni anche qui la storia del gruppo che non ha esperienza è giovane non hanno 17-18 anni questi sono quelli della primavera comunque insomma hanno vinto anche quasi tutti uno scudetto poi verrebbe da dire anche perché certi giocatori non vengono più coinvolti la gestione è stata un po' particolare e se pensano perché loro pensano solo alla Champions se pensano che così si mette in difficoltà il Napoli basta schiacciare il tasto il lunedì alla vigilia per mettere in difficoltà il Napoli e no e no Gattuso una cosa diceva da calciatore quando noi dovevamo fare una finale di Champions e arrivavamo poi da un po' di parte di campionato in cui avevamo un po' mollato parelli sconfitte diceva giustamente rischiacciare il tasto non è automatico che schiacci il tasto poi e vai a fare bene in Champions non è automatico che il lunedì schiacciate il tasto e si fa bene con il Napoli per fare bene con il Napoli che tra l'altro sarà il prossimo avversario è fondamentale ritrovarsi anche in campionato ragazzi sono poi ci metti sarà demagogia populismo quello che volete ma io lo dico davvero non ce lo meritiamo cioè il popolo rosso nero non voglio fare il paracì ma il popolo rosso nero è da dieci in pagella la domenica che affronti la serenitana che affronti l'inter il lunedì quando abbiamo affrontato che la serenitana il martedì il mercoledì il giovedì forse non abbiamo giocato quest'anno ma siamo comunque sempre sul pezzo il venerdì sabato e la domenica chi può andare allo stadio chi non può andare allo stadio qui di occasionale non c'è nulla e non deve essere uno scudetto occasionale per dare poi spago agli altri che sguazzano su queste cose e un'altra cosa la voglio dire secondo me per le ci sono possono essere anche ragionamenti per i massimi sistemi tipo non abbiamo fatto un mercato adeguato non abbiamo sostituito quello abbiamo sbagliato quest'altro colpo però secondo me queste sono cose che sono valide sull'intera stagione e sono condivisibili sono valide se tu perdi che ne so contro Napoli o l'Inter non sono valide se pareggi con la serenità ne perdi con l'Udinese cioè se pareggi con la serenità ne perdi con l'Udinese non va bene devi vincere anche se non hai sostituito che sia anche se hai sbagliato il colpo del Chetelare anche se hai sbagliato Righi devi vincere è questa questa cosa qui che fa la differenza che hai che sì o che non ce l'hai che sì la Fiorentina la Salernitana e l'Udinese devi vincere poi non fai 9 punti devi fare 7 se proprio ti va male sei sfortunato 5 non 1 e questa cosa qui ragazzi questa cosa qui ce l'hanno tutti l'anno scorso con questa cosa qui noi abbiamo fatto la differenza con la dedizione con tutti i concentrati sul pezzo ma gli errori che stiamo vedendo quest'anno l'anno scorso quando è che li abbiamo visti? ripeto ultime 11 partite 2 gol subiti 11 partite 2 gol subiti da quello arrivavamo quest'anno in 27 partite 36 gol subiti non si spiega con l'assenza di che sia basta o con degli errori di formazione si spiega con questa cosa qui e per questo io mi arrabbio ancora di più leggo i vostri commenti qui sotto e mando un abbraccio a tutti abbracciamoci diamoci una pacca sulla spalla almeno tra di noi ne abbiamo bisogno ciao ragazzi iscrivetevi se vi va qui ciao